a vigilare. Lutto nel mondo della sanità dopo un mese di ricovero in terapia intensiva a causa di un'infezione dovuta al covid. Morto nella notte il professor Giuseppe Basso aveva 73 anni, già direttore della clinica di onco-ematologia pediatrica di Padova, nonché tra i principali promotori della fondazione Città della Speranza. Il cordoglio è il ricordo del rettore dell'Ateneo Patavino, Rosario Lizzuto, nel servizio di Matteo Mokorovicic. Beppe, perché lo chiamavamo tutti così, è un medico di straordinario valore, un ricercatore appassionato. Sapeva coniugare il rigore e la passione in laboratorio con la capacità medica, con la volontà di portare ogni progresso alla cura dei suoi malati. Ha salvato tanti bambini in onco-ematologia pediatrica, è stato uno dei promotori poi anche della Città della Speranza. Sì, è stato un punto di riferimento non padovano, non veneto, nazionale e internazionale. Lui ha portato da noi la costruzione di un'integrazione ricerca clinica che è stata fondamentale nello sviluppare nuove terapie e quindi nel migliorare moltissimo le prospettive di cura. Io credo che tutti ricordiamo non solo la bravura di Beppe Basso, ma il suo sorriso, la sua capacità di avvicinarsi ai bambini, alle famiglie. È una persona che ti seguirà, che ti vuole bene, che si ricorda uno per uno i suoi pazienti e Beppe è stato a questo. Per evitare lunghe code alberi,